Nella notte del 24 giugno, in occasione della festa di San Giovanni Battista, patrono di Firenze, sulla piazza della Signoria e sul ballatoio di Palazzo Vecchio si accendevano fuochi e si facevano esplodere girando le pirotecniche. Sullo sfondo del dipinto realizzato nel 1558 non compaiono gli uffizi, la cui costruzione verrà avviata nel 1560. Grazie a tutti. Grazie a tutti.